Ciao, volevo dirvi che sono vivo, dopo domani esce un altro video Per la questione delle live sono un secondo bloccato perché ho dei problemi col pc Anche per questo i video non stanno uscendo perché ho problemi col pc Però tranquilli, pian piano tornano i video e possibilmente nell'immediato futuro magari anche le streaming insieme su Fortnite Per essere al 100% sicuri dell'uscita di un video, un determinato orario eccetera eccetera Seguitemi sui vari social che trovate sotto in descrizione come Instagram e come Telegram Per il resto vi auguro una buonissima giornata, spero il più felice possibile Mi raccomando andate in piscina, al lago, al mare, dove potete, godetevi l'estate E nulla, ci vediamo con un nuovissimo video esattamente tra due giorni Sabato mi raccomando, all'inizio del mattino, ciao a tutti Paaaaa